Vuoi andare a Dairon? A Dairon nel senso non a ferro Sì? Siamo all'esterno raga Guarda quanto cacchio eravamo alti prima Per cadere in basso così Guarda che figata anche il teletrasporto che cambia Perché effettivamente nell'altro, nel 2 Era tutto sotterraneo Quindi i teletrasporti erano tutti uguali No give a fuck Non sente l'aria, non sente niente Non so se dovevo andare avanti raga Anche perché non abbiamo battuto nessun boss Effettivamente Effettivamente potrebbe essere Particolare come situazione Ah no, beh però ci serve comunque un sacco di roba Qua c'era la lava tra l'altro Questo non mi ricordo Cioè sicuramente non potevamo salire di là Abbiamo lasciato un po' di roba raga Anche di qua Ci sono delle porte strane Cioè porte strane nel senso Che anche hanno bisogno di Ah Cacchio sono degli elefanti volanti quelli Porte strane nel senso che hanno bisogno anche di raggi multipli Tipo quella No E l'M di sotto Non l'abbiamo ucciso Non è morto Questa si spacca Forse ho capito Forse ho capito quel robo Scusi Quella è la velocità Ma allora io non devo andare di qua Semplice Mi serve la speed Oh A meno che No Niente Non di dire sia Prima di tornare indietro Non so Mi serve la speed Lì sicuro E per adesso mi sa che non posso rompere niente là Ma porca Eeeh Ah raga è la stessa situazione dell'altra volta Non sapevo Non era possibile andare avanti da nessuna parte Quindi in un modo o nell'altro Ehi vai In un modo o nell'altro Doveva aprirsi qualche porta Perché là mi è stato chiuso il Il flusso Il flusso del Del calore Strano Molto strano E infatti Non si poteva andare avanti Ah di Non so Non so cosa dirvi Ve l'ho già detto Mi piace molto come cosa Ma va bene Almeno siamo andati avanti E Finchè non me li mettono Finchè mi mettono delle cose così ovvie Perché Ormai lo sai no Non sai andare avanti Ti hanno bloccato tutte le uscite da una parte Non puoi tornare indietro L'unica cosa che puoi fare è andare da quella parte Quindi come fai ad andare da quella parte Orca miseria porca Che che è Megaman questa Ah ahia Mi sembra che non posso toccarlo Meglio Meglio non toccarlo Andiamoci Via Tranquillamente Occhio Capiamo anche un attimo come funzionano Sì forse avrei preferito che si rompessero direttamente In realtà Mmm Questo lo conosco Aia Oh Mi sa che non posso causarlo No Vabbè lo minerò Mi fa un sacco di danni Orca vacca Eh vabbè io sono stupido Dammi vita ti prego Need life Vai via Mi fa un sacco di danni Mi fa un sacco di danni Tocca stare attento anche alle bestie così Bene niente Quello Lasciamo perdere Perchè una zona così grossa qua Non facciamo scherzi eh Perchè è buio Saltata luce Ragazzi Ci sono gli M in giro Porca miseria Quello è esploso No 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 buona No buona sta zona No buona Eh lì è saltata la luce Eh aiuto No triplo Porca Dove cacchio vado Sopra non posso andare Ah vado dove è saltata la luce Per lo fortuna non siamo in una zona M Ma sembra era un problema Non vanno Ah Non vanno neanche quelle lame Senza la luce Ma stiamo Almeno qualcosa di pari Non mi ricordo Vabbè cosa sto dicendo No però appunto A meno che non sono così ovvie Eh Da una parte non puoi andare Quindi l'unica è Un pezzettino Che ti dicono Eh Hai solo quello Ok E luce fu E Samus fu Non esplode No Bossettino Qualcuno No però si sono riattivati Tutti Tutti i robi trappola Anche di là Lì mi serve Quell'altra roba Esatto Proste le lame Lei a te Dammi vita Allora Abbiamo riattivato questi Forse potevo passarci Vabbè Fa lo stesso Wide Raggio ampio Sì È il triplo Il triplo raggio È lui È lui o non è lui Spara tre raggi contemporaneamente Y per far fuoco Può spingere le casse Che vuol dire Può distruggere scudi Ragio ampio Sì sì vabbè È anche caricato Che bellezza Che bellezza Questo cos'è Bisogna test No Bisogna test Il cacchio Dov'è lì Permesso Ah è uno scudo proprio Beh ci sta Carina come idea È proprio uno scudo Il triplo Il triplo robo Il triplo oschi Questo Non lo so Non ho idea Non so dove veniamo Dove sono qua Allora questo l'abbiamo ottenuto Questo l'abbiamo fatto Qua mi manca quel pezzettino Ma fa lo stesso Per adesso L'unica è Spingere quello lì Forse quelle sono le casse Non lo so Ah quello è da tirare Mi sa Mi sa che c'è il raggio gancio Anche Prima o poi È andarla sopra E si entra nella zona M A meno che non vogliamo andare a Cataris Ma non devo andare a Cataris Perché non c'è un cacchio da fare a Cataris Devo andare Qua Permesso E Permesso Queste sono le casse Mi sa Va bene Tutte maledette Ste land Mi fa piacere che ammazzo quelli con un colpo Ah una buona notizia ogni tanto Anche in giornata Allora quello può esplodere Occhio ovviamente alle lame Che continuano ad uscire Zone M Proprio lei Qua ci sono Sempre da raggio gancio Ma nessun bossettino Non far casino Le zone M L'unica cosa che non devi fare Casino Non neanche puoi entrare e sparare raggi a destra Ma Questo è giallo Ma già sgamato Raga è lui È lui È quello È quello È quello iperveloce Lui mi dà l'abilità Ho capito Lì non so Lui mi dà l'abilità Dell'ipervelocità Che mi serve per fare quei blocchi là Il verde mi dà la morfosfera Adesso devo capire se lui Se il giallo Può passare nel mezzo blocco Se può passare nel mezzo blocco Sì Cioè il verde mi dà la morfosfera Ma sono completamente fusi Bellissimo farò quel robo Vabbè ho schifato tutta la zona là Ci può stare No ovviamente no Non ci sta in cacca Tocca tornarla dietro E soffrire Soffrirete con me Quanto è veloce quel robo? Quanto cacchio è veloce quel robo? Molto Via 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 È speed 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 No no Cacchio è successo lì Non lo so se l'ho parato Perché sono stupido Non c'era niente alla fine Visto? Va bene Però Però lo sappiamo No? La vita è fatta di prove Non tutto può essere provato ovviamente Però Prove Mi raccomando Provate Dai vieni con me Te non vivi Mi dispiace Cacchio però lì dietro c'è un covo Quello mi interessa Due su uno? Ah qua Ok lì ci arrivo con la velocità Quasi sicuramente Te cosa vuoi? Ma vai via vai Non rompo Di velocità Ahimè Aia Ma raga Mi ha dovuto tornare indietro davvero? Non ho nient'altro a fare Non mi ricordo cosa potevamo fare su Catardiss Visto? Ah Lui E lui è il motivo Che ci sblocca Tutto il pezzo sotto Perché sennò di qua per l'appunto Non potevamo fare niente Ho capito Va bene Tocca andar lì Tocca andar lì Permesso Mi apri? Grazie Che botto Questo è come apro le porte io ogni tanto Con calcio Spacchi tutto Allora possiamo andare di là? No non ce ne frega niente Andiamo via No andiamo via il caio Qua c'è l'Emmy Fermi C'è l'Emmy verde C'è quello verde che gira Dobbiamo arrivare lì sotto Mi interesserebbe un attimo il salvataggio là Un attimo intrigante E basta Non c'è nient'altro Queste porte ancora non si possono cosare Se Mi interessa particolarmente quel salvataggio Quindi Volentieri Lo andrei a prendere Subito lo andrei a prendere Ciao Ah non è un salvataggio Una mappa Allora il nostro amicetto gira Per questa zona Ok Ci può dare problemi? Sì Ci darà problemi? Sì Vabbè Proviamo Proviamo comunque Ah per favore se ne vada Che bello Perché almeno con Con il wide cosa Riusciamo anche a fare più Laggiù eh Ok Passi di qua Vai vai Te vai tranquillo Fatica che tu hai Fatica che tu hai Fino a un certo punto Anche perché finchè non ti sgama È un conto Dove sei? No No Che aiuto Guardalo Dobbiamo trovare altri modi Ti hanno altri modi Se dobbiamo trovare Piano 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 Allora Un grosso problema È il fatto che Cioè La differenza tra Cacchio arriva Non posso fare niente Oh Salve Salve Allora Solo raggi caricati O missili Vanno contro di questi La differenza che c'è tra Questo gioco E Fusion E lo ripeterò Sta nel fatto che In Fusion Era un po' Forse l'ambiente Che creava Quell'attimo di Di panico No E poi non è che era proprio panico Era un po' più Inquietudine E invece qua È solo il momento In cui incontri Lemmy Comunque adesso lo disintegro Vado a disintegrare quel robo E mi danno la morfosfera Quello verde Quello verde mi darà la morfosfera Allora scarica Omega attivata Flusso Omega attivato Come per quell'altro Aspetta Come per quell'altro Prima Gli andrà rotto La capoccia Suppongo Vieni su Dove vai? Aspetta Eh che cacchio Ci ho provato Era uno spazio Un po' troppo stretto Forse quello Non andava troppo bene Bisogna comunque Trovare Lo spazio giusto Ok qua abbiamo già aperto Quello che mi abbia salvato lì L'altra volta Non mi ha salvato lì Ok Vieni vieni Questo è perfetto Dove sei? E dai Via la capoccia Che cacchio fa? No 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 Non può saltare così E star calmo con il robo Vai via Vedi Comunque Il fatto Che quando hai quel robo lì Non è Il terrore Non c'è più È solo Cioè Il panico ce l'hai Ce l'hai Ma quando non c'hai Quando non c'hai Quel cannone Omega Quel cannone Omega È tutto Yes Lo sapevo Morfosfera Ah raga con la morfosfera facciamo tutto ZL Prima di via per saltare Quando è una mega scarica disattivata Ok Naturalmente per la morfosfera O ZL direttamente Possiamo che saltare Che non è scontato il salto Oppure ci accucciamo due volte È comodo ZL È comodo ZL Perché tutti i passaggi bloccati che avevamo prima Tutti Questo Possiamo adesso visitarli Ora il fatto è Cosa facciamo? Innanzitutto Io voglio andare qua Perché c'è Un Qualche potenzimento Adesso che non ci abbiamo Nemi Che rompe le valle in giro Facciamo tutto Molto più in fretta Vedete Morfosfera Tac Possiamo passare Dove andava lui In sostanza Adesso possiamo fare Veramente un sacco di cose Penso che Oh Bello però Vai morfosfera in automatico Cioè quando c'è un Pezzettino Aspetta un attimo A parte il fatto Posso diventare morfosfera? Sì Bene Allora non mi convincono Un po' di cose Perché qua ci dovrebbe essere Un potenziamento O è nel tunnel O è sopra Allora adesso andiamo In morfosfera in automatico Quando ci aggrappiamo E questa è una cosa Molto buona Però Dove è il potenziamento? È lì in mezzo Mi sa che mi serve la Mi serve la bomba Sì raga Andiamo a recuperare Un po' di robe Cioè Oddio Recuperare Un parolone Non neanche c'è molto Però Tipo qua Andiamo a recuperare Anche lì Sicuramente Senza Senza Lemmi che Che rompe le palle Si vive meglio Uh Ciao Tu sei nuovo? Ah tra l'altro Quando ha sconfiggito Un nemico Dopo avergli fatto Uno Uno di quei cosi Di quei perri Vi droppa Più oggetti Questo c'era scritto Tipo nel menu Questo che cacchia è? Salve Però mi serve La bomba Quasi sicuramente Andiamo a vedere Mi sa che mi serve La bomba Per la cosa Va bene Questo mi chiede Il missile Ah no No Buono Servato i missili Ok Sì andiamo a recuperare Un po' di oggettini A caso Ma Non penso Di poter Comunque far Molto Senza esplorare Nuove zone Però appunto Abbiamo tutto Allora Là sopra Mi serviva La velocità E ancora Non ce l'avevamo Aspettiamo Un attimo Di andare A Daryon Daryon Perché mi confondo Daryon Daryon Semplice Voglio provare Anche ad andare Di là C'è troppa roba Deciditi Deciditi Andiamo di qua Andiamo in sto pezzo Sì Così ci ricolleghiamo Che tanto dobbiamo andare Anche di là Allora Fammi vedere È da questa parte Ma qua c'è il fuoco No No Che strano Perché non ce l'avevo Cosata Perché è una zona Così poco esplorata Questa Forse perché Quando abbiamo ottenuto Il potenziamento Non potevamo Non potevamo tornare indietro Possibile Allora buono E ce lo togliamo Mi sa che quando avevamo Trovato il potenziamento Del Del triple miss No ma non c'entra niente Non so perché Quando l'ho vista Sto pezzo Vabbè lo vediamo adesso Vediamo giusto Ma tanto non c'è niente Ok Giusto per Mi servirebbe Gradirei Un serbatoio Un serbatoio Molto volentieri Lì c'è la zona di lava Quindi niente Qua si torna D'artaria Quindi per adesso Lo lasciamo un attimo perdere Qua ci si è La morfosfera Tac E si va lì Ah ecco Sì Non lo vedevo Oh Salve E abbiamo anche il passaggio Per andarvi da Molto buono Anche questo Poi Qua sopra Quella è una bomba Poi sicuramente È una bomba Per la morfosfera Quindi per adesso Non ci possiamo fare niente Questo l'abbiamo usato Qua C'è un ragazzotto Ma io potevo salirci da lì Tanto a provare Tra l'altro ci sono Ci sono anche Determinate cose Che si sono chiuse Per via del flusso Del flusso deviato Che Che ci ha fatto chiudere Delle porte Aia Ah no Non far casino Vai 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 Che bello Il volo Posso farlo È bellissima Sta roba E vai via Datemi il vostro oggetto Dov'è il vostro oggetto Non so che ce l'avete Da qualche parte È qua È qua sotto Da qualche parte È qua sotto Ma dove Oh Quello Questo cos'è L'attacco a vite Mi sa che è l'attacco a vite Ma non funziona Non ce l'abbiamo Mi sa che è l'attacco a vite Allora Posso provare anche Andare a vedere qua Portare il raggio ricarica È una zona nuova Quella Che non Raggio ricarica Forse non potevamo ancora Molto possibile Quindi basta Grapparsi qua E ci porta lui Grazie Permesso Sperando che non sia Eh C'è la lava dietro Va bene Va bene Buona sapersi Mi sa che anche lì Ci sarà la lava Ma Un'occhiatina Guarda lì Giusto perché almeno Me lo segna lì Nella mappetta Perché sennò Poi mi scordo Ok Qua ci sarà sempre La lava E poi ci ricolleghiamo Lassopra Tanto Vediamo anche Sto pezzetto Ma non credo Di poterlo visitare Quello Allora Anche qua Ovviamente Abbiamo la lava Quindi però Lo lasciamo E andiamo qua Così ci ricolleghiamo Qui E Allora Lassopra Per adesso Non mi interessa Mi interessa questo Che è nuovo Ed è un passaggio Semplicemente Per arrivare qua E E basta Mi sa che anche qua Abbiamo finito Adesso possiamo provare Ad andare a vedere Qua a sinistra Tanto qua abbiamo Esplorato tutto il pezzo Missili vari presi Siamo passati anche di là Di sopra C'è sempre quella porta Che è chiusa per ora Quindi non possiamo farci niente Qua mi serve Quell'altro attacco Va bene Abbiamo quasi finito Andiamo lì a sinistra Sono diventato uno di loro Raga Sono un Emmy Bellissimo Cioè È molto molto bella Sto fatto Vabbè Il fatto Lì mi sta Mi dà un po' fastidio Con la mappa Perché non Non ti segna bene Bene l'esplorazione Uuuuh È vero Era questo Era questo Noi siamo passati Dall'altra parte Lì A te cosa sei? Reagge ricarica Munizioni Ok A te sei Incendiato Posto Ma qua non c'è un cacchio Va bene No era giusto per sapere Grazie Io come faccio Da queste parti Però Non lo so Anche perché lì C'è un salvataggio Ehm Boh Qua cadiamo Suppongo da questa parte Che Porta zona Emmy Uh Tocca andare a vedere In questa parte Che posso andarci lì Allora Cos'è? Da qua si cade Oh Ciao Ciao Benvenuto Ok Qua dove cacchio Andiamo a finire Ah ok Ci sono i bambinetti Stavo pensando Che tipo fossero Delle robe a gas Ah no Ecco da dove ci arriviamo Va bene Allora posso tornare Un attimo Alla stazione d'accesso Devo rifare un attimo Un giro Un po' strana Anzi magari Andiamo in un'altra Tanto Voglio andare a parlare Un attimo con Adam E Qua abbiamo finito L'unica cosa Che potrei provare a fare E tornare ad Artaria Torniamo un attimo Ad Artaria E andiamo a recuperare Un paio di Di robine Anche lì Che adesso Che abbiamo la morfosfera Eccoci a casa baby Allora Abbiamo la zona di lava lì E la dobbiamo lasciare Per Per ora Abbiamo Un potenziamento qua Con tanto di porta Forse O forse la porta di qua Abbiamo questa zona Da esplorare Adesso che probabilmente Abbiamo L'arachno Anche se mi fa strano Che non potevamo esplorare Abbiamo un sacco di roba Da vedere qua Questo è ancora Il viola Che non possiamo causare Qua c'è uno strumentino Uno strumentopolo Qui abbiamo L'arachno La morfosfera Quindi possiamo andarci Arachnosfera Possiamo andarci E c'è un modulo energia Che forse è un quarto Va bene O comunque andiamo Andiamo a pezzi Perché qua Qua abbiamo veramente Troppa roba da vedere Giusto Cacchio Anche perché Noi qua non potevamo Passarci più Perché sotto c'è Quello nemico strano E sopra c'era Bisogna della morfosfera Adesso mi ricordo Quindi buono Qua c'era un Un roba nascosto Eh Quelli lì nascosti Raga Però è un po' un casino È un po' un casino Perché non 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 li riconosco Cioè Solo vedere dalla mappa Non li riconosco A parte che lì Scusa un attimo Come ci passo lì? È chiuso? L'unica cosa che mi viene in mente È un raggio È il plasma Che passa attraverso le pareti È l'unica cosa che mi viene in mente Oh qua c'è un oggetto comunque Da qualche parte Quindi come cacchio lo troviamo? Che simbolo è quello? Ah la velocità Però non è quello È comunque qua in giro Trocca sparare un po' a caso A meno che non c'è tipo Una qualche crepa Particolare No? Che ti dica Oh è qua No eh Per me me l'hanno messo lì in mezzo Cioè Bisogna arrivare con la Con la bomba E La morofosfera Quale sicuramente? Allora qua sopra Non Ok Qua sopra ci siamo stati noi Ci siamo stati qua Sì Ed è una zona abbastanza grossa Anche perché io potevo arrivarci qua Infatti non c'era niente Perfetto Buona sapersi Grazie mille Grazie mille